Ma voi vi rendete conto che nonostante ci abbiano portato una malattia e questa cosa prima o poi qualcuno la dovrà prendere in mano? Perché ieri ho letto che l'Inghilterra ha fatto causa alla Cina per 6.5 trillion di miliardi, trillion. Ma io mi stupisco che l'abbia fatto al momento solo l'Inghilterra perché ci hanno tenuto nascosto una pandemia. Questo per dire, vabbè intanto mi sono un attimo sistemata perché faccio sempre dei video che sono terribili, spettinata, appena sveglia. Ma a parte quello è che il contenuto non mi faceva venire voglia di essere anche bella. Aiutate a firmare la petizione perché loro a sto giro agiscono anche indisturbati. Nessuno può andare lì, nessuno può andare a filmare, a documentare, a far vedere quello che fanno e questi continuano a mangiare e a uccidere barbaramente degli animali. Ma io non voglio solo parlare dei cani barbaramente. I cani li bollono vidi, li tagliano le zampe vidi perché solo così si nutrono dalla loro energia. Fermiamoli, vi prego, fermiamoli. Voglio anche dire una cosa, non sono tutti cinesi così, è una piccola parte, ma quella piccola parte... Allora come sempre io vengo a mangiare a orari, scusate ma devo scoprire a orari, vedete pian piano panini all'uovo, pian piano sto ritornando a mangiare benino, benino, che non è bene. E' Cicco, anzi, tu sei Cicco, no, Cicco è mio, tu sei Pampero, tu sei Pampero, amore, tu sei Pampero, amore mio. Se penso a quello che succede in Cina... Non so. Ho il cuore in frantumi e mi chiedo cosa posso fare per salvare... Poi quest'anno purtroppo godono... La cosa che più mi fa rabbia è che noi abbiamo le spedizioni, cioè non riusciremo neanche a fare la spedizione per andare a salvare queste creature, perché... Quindi godono anche di quel privilegio lì, che nessuna associazione nel mondo raggiungerà questi paesi e proverà di urlare al mondo quello che fanno. E quindi dobbiamo farlo da qua e dovete assolutamente aiutarci, perché... Gli mettono nella pentola da vivi, perché solo così prendono l'energia dell'animale, li tengono dentro delle... E' terribile, non sono esseri umani, fanno schifo, mi fanno schifo... E quindi... Grazie. 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 Grazie.